La strumentazione è divisa nelle classiche tre sezioni. Con i tasti sulla razza destra si comandano le informazioni che si possono visualizzare. Premendo il pulsante a sinistra si agisce sulla parte di sinistra e poi con le freccette si seleziona l'informazione che si vuole visualizzare. Nell'impostazione si sceglie cosa far comparire nella lista ed è tutto molto personalizzabile. Quindi nessuna indicazione. Consumo è il consumo istantaneo. Consumo medio, indicatore della marcia. Però non fa comparire la marcia inserita. La marcia fa semplicemente vedere se si è in posizioni di parcheggio, drive, folle o retromarcia. Livello carburante. E poi gli assistenti. Nella parte destra le cose sono le stesse. Semplicemente ho selezionato altre informazioni da visualizzare. La durata del viaggio. Velocità media, temperatura di esercizio. Di solito lascio questa, visto che sono anche nel radaggio. L'audio fa vedere la canzone che si sta ascoltando anche con CarPlay. Cosa che per esempio la mia Golf 7 non faceva. Questo non l'ho mai visto, non so cosa faccio. Anche qui ci sono le impostazioni per scegliere cosa visualizzare. Nella parte centrale invece ci si agisce utilizzando le freccette direttamente. Senza premere uno dei due pulsanti destra o sinistra. E quindi dati di marcia, vuoto, data e ora, segnaletica stradale, velocità o si torna a dati di marcia. Premendo il pulsante view si cambia il tipo di visualizzazione. Questa è quella che privilegia gli assistenti alla guida. La cartina, la velocità oppure quella classica. Per la strumentazione direi che non c'è molto altro da dire. Se non una panoramica dei comandi. Assistenti vocali, premendo una volta è Volkswagen. Tenendo premuto è l'assistente vocale del cellulare. Questo è il tasto view. Riscaldamento del volante. E questi sono i comandi. Di qua abbiamo la CC e gli assistenti alla guida. Faccio anche una panoramica del sistema multimediale. Parto subito dalla cosa inutile. Cioè questa. E qui ci sono tutte le icone. Diciamo che questa è la home. Qui c'è Alexa che ho scaricato io. Se no le icone base si fermano assistenti. Sono anche queste riconfigurabili tenendo premuto. E da qui si ha accesso a tutte le funzionalità dell'auto. Andando poi nelle altre schermate che sono personalizzabili si può mettere quello che si vuole modificando qualsiasi cosa. Tenendo premuto da qualche parte si sceglie diciamo il widget che si vuole oppure si aggiunge una pagina. E a questo punto ci chiederà che tipo di layout si vuole per la schermata. Tutto molto molto semplice direi. Riguardo invece a clima e tutta quella roba lì si fa con questi shortcut qua che devo dire non sono sempre immediati. A volte premendo clima non si ottiene niente. Questa volta ad esempio è andato fin da subito. Molto carino per l'inverno specialmente questo. Visuale libera, scalda i piedi, scalda le mani. Penso che funzioni anche col comando vocale ma non l'ho mai provato. E niente questa è una velocissima panoramica. Non posso farvi vedere il carplay perché il cellulare lo sto usando per riprendere. Tirando su anche qui abbiamo il centro notifiche. O dei comandi rapidi ad esempio si può passare tra il tema chiaro e il tema scuro. Portarmi a casa, istruzioni nel navigatore silenziate, mute per l'audio e start and stop. Su questo lato del display compaiono a volte dei numeri che indicano le notifiche non lette che vengono elencate qua. Premendo qua si accede al clima come anche premendo qua. Questo è il DPS. Su individual Ci sono le classiche possibilità di scelta. E niente poi io sul menu per gli assistenti al parcheggio non ho granché perché ci sono semplicemente i sensori senza il park assist. E qua invece ci sono gli assistenti alla guida che sono quelli di base per la style. Manca solo l'assistente per l'angolo cieco. Manca solo l'assistente per l'angolo cieco. Manca solo l'assistente per l'angolo cieco.